Niente acqua dai rubinetti dalle 7 di domani a Butera. La distribuzione idrica sarà interrotta per consentire ai tecnici di Caltacqua l'installazione lungo la rete di adduzione denominata Valcanonica di un'apparecchiatura per il monitoraggio dell'efficienza della rete. Tutto dovrebbe rientrare nella norma entro 24 ore, il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento e il successivo lavaggio della condotta. Grazie per la visione!